Allora, siamo arrivati a un momento che recuperiamo e che dal libro della settimana leva sta roba, dal libro della settimana diventa il consiglio di lettura estivo. Eh sì, tra l'altro il mio consiglio di lettura estivo, o meglio, quello che volevo leggere io d'estate, poi tu sei parsata come una Ferrari. Sì, anche tu hai letto due pagine gli ultimi tre mesi, quindi... Non esageriamo, ho letto forse la prima pagina e mezza, perché poi... Allora, questo è un libro che devo dire che se cercate una lettura leggera per l'estate non va bene. Ve lo dico proprio. Se invece non vi preoccupate di leggere qualsiasi tipo di cosa e semplicemente avete un po' di tempo in più del solito, potrebbe essere una cosa molto interessante. Stai per caso mettendo le mani avanti? No, sto dicendo la verità. Si tratta di Cadavere squisito di Agustina Basterrica, non so se si pronunci così, ma immagino, con la traduzione di Francesca Signorello per Eris Edizioni. Allora, questo è il secondo romanzo di questa... Ha pubblicato varie... Allora, è una scrittrice argentina. Ok. Ha pubblicato delle raccolte di racconti e il romanzo, sì, questo è il secondo, il primo è del 2013 e si intitola Matar alla nina, cioè uccidere la ragazzina. Credo che sia stato tradotto anche in Italia. e non so, forse proprio da Eris oppure da qualcun altro, controlliamo. Comunque, questo libro è uscito all'aprile di quest'anno e racconta la storia di Marcos che lavora nel mercato della carne. È un'attività di famiglia, suo padre faceva, lavorava in un'azienda di macellazione, diciamo, della carne. Però, cos'è successo? È successo che a un certo punto un virus... È il primo libro italiano pubblicato. Perfetto, quindi spero che pubblicheranno anche il primo. Un virus ha attaccato gli animali, sia domestici che selvatici, che sono stati abbattuti tutti e quindi la loro carne non può essere consumata. Però, uno dice, diventano tutti vegetariani? No. Perché no? È una soluzione auspicabile. In realtà, quello che è successo è che si è deciso di virare su un mercato leggermente diverso perché la carne c'è, ma è carne umana. Ah! La carne è speciale, i governi hanno dovuto affrontare questa situazione e hanno deciso di rendere legale l'allevamento, la produzione, la macellazione e la lavorazione della carne umana. Quindi l'azienda di Marcos, cioè Marcos, diciamo non l'azienda di famiglia, ma lui, si è dovuto adattare e fa questo. Sta dietro ai fornitori, prende gli ordini, consegna perché deve sopravvivere, perché deve mantenere il suo padre che vive in una casa di riposo, e la sua famiglia. Eh sì, però... Questo è già un inizio quantomeno straniante. Cioè, si sono praticamente ribaltate, si è ribaltata la situazione perché ci sono degli esseri umani che sono esseri umani che vivono, fanno una vita normale come facciamo noi, e ci sono degli esseri umani che vengono allevati per essere mangiati, così come succede agli animali. E' un libro, ve lo dico, non è un libro facile, anzi è un libro molto duro, molto cupo, che tra l'altro, nonostante abbia già di per sé questa trama sconvolgente, riesce ad essere ancora più sconvolgente sul finale. Quindi, insomma, sì, molto decisamente, c'è di mezzo un tramo familiare, ma insomma, in generale, è un libro che fa molto riflettere un po' su quello che siamo riusciti a creare in questo mondo, su quello che effettivamente succede con la sovrapproduzione di carne animale, con il consumo di carne animale, e ti fa un po' mettere nei panni, cioè ti fa un po' dire, porca miseria, forse non deve essere semplice nascere e vivere per essere allevati e mangiati. Ma a prescindere da questo, che sicuramente è un lato, è anche un lato interessante, c'è tutta una disamina, una riflessione sull'animo umano, su come l'uomo si interfaccia con questo tipo di situazioni, quindi ci sono dei personaggi assolutamente viscidi e ripugnanti che sono quasi contenti, soddisfatti di lucrare su questo tipo di mercato, quindi su come ammazzare queste persone che poi non vengono chiamate persone, perché se lo dici è vero, in realtà è vero comunque, però loro cercano di non dirlo, di dirlo con parole diverse, una carne speciale la chiamano, cioè non lo dicono, anche se tutti lo sanno e anche questo è abbastanza inquietante. Tra l'altro, anche a proposito del complottismo, questo fatto del virus che colpisce la carne, in realtà sì è vero, è successo, ma quello che molti pensano è che il governo abbia, diciamo, un po' lucrato su questa storia e quindi è che effettivamente abbia deciso di utilizzare questa cosa che è successa come scusa per mettere anche un po' il limite alla sovrappopolazione. Quindi vabbè, è un libro così. Un libro che non lesina di schiacciare sull'acceleratore. Decisamente no, però è anche un libro scritto in una maniera assolutamente coinvolgente e ringrazio ovviamente le persone che hanno lavorato alla traduzione, Francesca Signorello, ma so che c'è lo zampino anche della nostra Valentina, Presti Danisi, quindi insomma credo che sia stato fatto un gran lavoro, un lavoro che ha funzionato molto bene perché è un libro estremamente coinvolgente, ti cattura, ti disgusta anche perché disgusta parecchio, però secondo me in un modo intelligente. Io ho molto apprezzato, alla fine ero sconvolta, lo volevo lanciare, però l'ho molto apprezzato. Beh, vedendo lo stato della copia è andata bene, gli è andata bene anche all'oggetto. Sì, 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 sì. No, ma veramente ci ho messo forse due giorni a finirlo perché è molto, molto, ti cattura moltissimo e c'è appunto anche questo crescendo della situazione e questo sconvolgimento finale che devo dire che in questa forma non me lo sarei aspettato. Addirittura? Sì, sì, sì. Tra l'altro, ritornando sulla trama che colpisce, leggo dei messaggi dal WhatsApp 3515241101, sono arrivati anche dei consigli di lettura, il discorso di esseri umani allevati per lavorare, cioè sento il metaforone… No, per essere mangiati proprio, cioè praticamente loro che fanno a un certo punto… Produci, consuma, crepa… Sì, non voglio dire troppo perché rovino anche un po' la sorpresa, però loro hanno proprio messo a punto un sistema per cui questi esseri umani non è che sono uguali agli esseri umani che li mangiano, non so come dire, cioè hanno creato un dislivello per mettere distanza, no? Per cercare di mettere distanza. Quindi hanno messo insieme tutta una serie di procedimenti, anche genetici, per cercare di rendere queste persone più simili possibili a bestie. Ma sempre persone sono? Sì, sempre persone sono. Vabbè, comunque… E anche se vengono da un posto… E non parliamo dei bambini, ma lasciamoli questo discorso. Non ne parliamo. Leggete il libro, se volete. E anche se vengono da un paese lontano? Sempre persone sono. Sì, 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 questo neanche viene, l'ho po' sottolineato a dire la verità, perché è un po' tutto insieme. No, un certo… Si parla anche vagamente di questo, però… Ma se… Allora, io devo registrare questo record, perché da Whatsapp arrivano… Ho inoltrato il link di questo… Beh, buttiamo giù il sito di Eris. Cadavere squisito. Stiamo parlando di cadavere squisito, Agustina Basterrica, o Basterrica, o Basterrica, a questo punto. Devo registrare il fatto che non c'era stato… Forse per Seidmatur c'è stato tanto interesse nel richiedere il titolo di nuovo. Cadavere squisito, Agustina Basterrica, Eris Edizioni. Ma appunto, anche soltanto stando sopra, sulla superficie, stando sulla trama che ci hai raccontato adesso, sembra un belato, accennato discorso sul capitalismo. Assolutamente. Andatelo a leggere. Io più di così non voglio dirvi perché rischio di rovinare, veramente. Però è un libro che fa… Veramente apre dei grandi campi di riflessione. Ve lo consiglio proprio. Mi sono completamente distratto, però a questo punto… Produci, consuma, crepa… Via.